Cristina esegue un balzer di Matteo Carcassi, Silvia esegue un tema del patrino di Emino Rotta e Sammy esegue un dia di novembre di Leo Bravo. Nell'ordine sono così, Matteo? Carcassi no, chi è primo? Allora prima Silvia con il patrino, poi? Poi Cristina e poi Sammy. Grazie a tutti. 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 Applausi. 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 Pую. Pooch. Anımide. grazie a tutti 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 grazie a tutti